Ciao a tutti, come state? Qui fa tanto caldo, c'è un bel sole e oggi ho pensato di parlarvi dei nostri due prodotti fantastici, il nostro Aloe First e la nostra crema solare protezione 30. Si può soltare ovviamente singolarmente, però oggi ve lo farò vedere in un altro utilizzo. Spesso quando si va al sole si è molto accaldati e si tende a spruzzarci magari un po' di acqua. Io col tempo ho capito che questo rituale non era proprio sanissimo perché comunque l'acqua disidrata inizia ad idratare e allora ho pensato cosa possiamo fare in alternativa? Spruzzarci il nostro Aloe First, però comunque bisogna mettersi anche la crema solare e allora cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Perché non mischiare due? Adesso vi farò vedere. Allora questi qui sono i miei, fateci caso, sono un pochino usati, si vede che sono usati, questi qua sono i miei. Io cosa faccio? Quando arrivo a metà o comunque ne ho sempre di scorta, quando arrivo circa a metà first, prendo il mio first lo apro, apro la mia crema, ci metto un po' di crema solare, mi chiudo e il gioco è fatto. Mischio, ogni volta che me lo aprito mischio, spruzzo e faccio il 2 in 1, idrato la pelle, inizio a proteggerla e in contemporanea proteggo la mia pelle con la protezione. Mi raccomando, nel momento che la diluite con il nostro first se questa era una 30, questa sarà circa una 20, molto importante, quindi magari utilizzata su di voi che non ha la pelle molto delicata, per chi ha la pelle delicata o per i nostri bambini tenete questa qua pura, non diluitela. Questo è tutto per oggi, per altre informazioni, alla prossima volta. Ciao ciao!